Dopo aver festeggiato con il dovuto fasto la ricorrenza dei 25 anni, Gubbio Summer Festival riparte con una nuova edizione ricca di contenuti e di qualità. La 26esima Kermess musicale Gubbina si pone come una delle eccellenze in ambito regionale e nazionale, potendo contare sulla presenza di numerosi maestri e allievi formidienti da ogni parte del mondo. Delle 21 masterclass attivate nelle scorse settimane, molte sono già andate esaurite prima della scadenza, al punto che ci sono delle vere e proprie liste d'attesa, alle quali guardano con speranza numerosi musicisti pronti a subentrare nel caso in cui ci fosse qualche rinuncia. Si stanno registrando adesioni da tutto il mondo, con coinvolgimenti da America, Giappone, Inghilterra, Germania, Spagna, Slovenia. Le iscrizioni alle masterclass ufficialmente sono state chiuse sabato 4 luglio, ma nei prossimi giorni sono previste deroghe in via del tutto eccezionale. Ce ne parla l'anima di questa manifestazione, la direttrice Katia Ghigi. La caratteristica del Gubbio Summer Festival è quella di abbinare le masterclass internazionali ai concerti dei maestri e dei migliori allievi, oppure anche di personalità invitate proprio per l'occasione. Quest'anno possiamo dire che siamo soddisfatti perché siamo riusciti ad attivare tutte le masterclasses che erano in programma, alcune chiusi addirittura con due mesi di anticipo. I ragazzi provengono un po' da tutte le parti d'Italia, alcuni vengono dall'Europa e abbiamo anche alcuni che vengono dal Giappone, dall'America, dall'Australia addirittura. Quindi dal punto di vista delle masterclasses siamo molto soddisfatti. I concerti sono molto interessanti, tutti vari, nel senso che ogni concerto è diverso dall'altro e è diverso dagli anni precedenti. Invito la popolazione ugubina a partecipare a questi concerti perché c'è sempre un po' di paura nei confronti della musica classica, a parte che quest'anno non è solo musica classica ma c'è world music, jazz, diversi generi, è musica antica eccetera. Ma anche per curiosità, per vincere un po' questo pregiudizio che c'è nei confronti della musica classica che dice io non la capisco. Non è in realtà così perché per capire la musica basta ascoltarla, è molto più semplice di quello che noi pensiamo. Il 20 luglio è un concerto da non perdere, quello del 23 luglio lo stesso. Abbiamo la presenza di un attore come Paolo Conticini il 25 luglio, che è un attore molto conosciuto, che parteciperà alla serata, diciamo una serata di gala, molto simpatico, una personalità, lo abbiniamo molto ai cinepanettoni o alle telenovela, alle fiction, credo quelle fiction televisive. Poi abbiamo il 26 luglio, un concerto bellissimo, appunto questo non è di musica classica ma direi di musica tra il pop e la musica etnica. Poi concerti importantissimi, quello del 2 agosto, quello con Mario Caroli, perché Mario Caroli è considerato dalla critica il più grande flautista vivente, uno dei migliori al mondo. Poi un altro concerto incredibile è quello del 5 agosto perché suona Gabriele Mirabassi che è considerato un poeta della musica, non è un semplice musicista, è un essere superiore. Chi ha ascoltato il concerto l'anno scorso può solo confermare quello che dico.